La prima rete ferroviaria sul suolo italiano e il Papa prudentemente si era fatto ospitare da Ferdinando II nel Regno delle Due Sicilie, vista la situazione dalle proprie parti dove le vicende della Repubblica Romana guidata da Mazzini, Armelini e Saffi mettevano a rischio il potere temporale della Chiesa. Comunque, risolta la questione con l'aiuto dei francesi, Pio IX torna nel 50 e nell'arco di un decennio inaura la Roma Frascati e quindi la Roma Civita Vecchia. Ma si rende conto che è necessario costruire una stazione centrale e il progetto viene affidato all'architetto romano Salvatore Bianchi, autore tra l'altro dell'ospedale militare Alcelio che introduce l'uso del ferro nella costruzione della stazione. Al Papa, nel frattempo, saranno donate tre cozze con cui si farà qualche passeggiata. I vagoni sono completi di tutta l'attrezzatura necessaria alle esigenze spirituali del Santo Padre. Un vagone è adebito alloggia delle benedizioni, un altro alla sala del trono, mentre in una carrozza viene riservata la cappella. Gli interventi dei vari artisti che la decorano può essere considerata una vedrina del gusto decorativo francese e infatti i nomi che ricorrono sono il parigino Charles Christophe Orafo, l'ebanista Eugène-Louis Godin, che esegue le sculture dei tre angeli che rappresentano la fede, la speranza e la carità, il tappeziere Peron, il bronzista Larolle, il pittore Comben e così via. Pio IX, tuttavia, non inaugurerà la nuova infrastruttura, glielo impedirà l'arrivo dei piemontesi nel 1870, che comunque manterranno il progetto iniziale. Aprile 1917 Siamo in piena guerra mondiale. Lo zar di tutte le russi ha appena abdicato e gli Stati Uniti sono scesi in guerra. Da noi i morti sono già migliaia, ma ancora non c'è stata Caporetto. E qui a Porta Maggiore, proprio dove venne costruita la prima stazione della Roma Frascati, avviene un fatto. Un cedimento di terreno sotto i binari della Roma Cassino Napoli apre una voragine. Voi direte, è la solita buca a Roma. No, stavolta la buca svela un piccolo tesoro che suscita l'interesse di archeologi, storici dell'arte e anche filosofi. Una piccola basilica privata sotterranea, a tre navate, lunga circa 12 metri per nome di larghezza, che darà non pochi grattacapi al direttore generale dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, Raffaele De Cornè, e all'allora soprintendente ai musei e agli scavi della provincia di Roma, Giuseppe Angelo Colini, in quanto si trattava di conciliare interessi diversi, tutelare la scoperta, ma anche non interrompere il servizio ferroviario. Si procede, ma l'intervento si rivela inefficace, sia per le infiltrazioni d'acqua che per le vibrazioni originate dalla soprastante linea ferroviaria. Il bombardamento poi del quartiere San Lorenzo nella seconda guerra mondiale del 19 luglio del 43 è la cileggina sulla torta. Ne comprometterà ulteriormente la sua stabilità. Tuttavia, un secondo intervento, effettuato all'inizio degli anni 50, sembra aver dato una soluzione al problema con l'isolamento completo della basilica. Rimangono a trovare i quattrini per restaurare questo piccolo tesoro e fino allora dovremo accontentarci di ammirarla dall'esterno. Il ritrovamento della struttura che viene trattata al primo secolo toglie ogni dubbio agli studiosi di inizio secolo XX che ancora si interrogavano se l'impianto architettonico degli interni della basilica cristiana fosse un'eredità romana. L'edificio a tre navate, con l'abside in fondo alla navata centrale, confermerà questa ipotesi. Dal punto di vista artistico, basti sapere che gli interni della basilica conservano una ricchissima varietà di stucchi, la più vasta aggiunta fino a noi. Se la datazione al primo secolo è giusta, si tratta del momento di maggior fulgore dell'uso degli stucchi. Nella basilica si accede da un vestibolo illuminato artificialmente. Poco rimane dei dipinti delle pareti, mentre d'esta interesse la volta suddivisa in quadrati e rettangoli dove nei lati lunghi si possono osservare all'interno di due medaglioni due menadi, semidee, seguaci di Dioniso, a cavallo di una femmina di pantera, con in mano il tirso, un bastone rituale sormontato da un viluppo di edera a forma di pigna. Accanto, inseriti in un rettangolo, si vedono fanciulli in piedi, dalla cui testa si innalzano steli gigliati. A seguire, in un rombo inserito in un quadrato, un amorino che sta sollevando un'anfora, mentre quadrifogli e margherite ornano gli spigoli del quadrato. Una testa di Giovammone è visibile nella sequenza che chiude il lato lungo della volta. Qua e là si intravedono amorini occupati in vari giochi. Il pavimento della basilica conserva ancora qualche traccia dell'antico basamento, ma ciò che colpisce lo sguardo è la quantità di stucchi che ornano le pareti, le colonne e il soffitto, inserite in cornici rettangolari o quadrate. Nulla è lasciato vuoto e nulla probabilmente è lasciato al caso, ma il loro significato complessivo rimarrà probabilmente oscuro, lasciandoci semplicemente la possibilità di interpretare le immagini per quello che sono e non per quello che simbolizzano. Cogliamo quello che possiamo, non potendo entrare nella sala, e solo per sottolineare la raffinatezza del disegno. Una donna orante, una scena di sacrificio dove un grande vaso è sistemato su un'ara, una mensa sacra con un ramo di palma e un dio oscuro che rapisce un'alleucippide. Tuttavia, la parte più interessante la troviamo nel catino dell'abside, dove assistiamo a un episodio che ora vi racconto. Armatevi di fantasia. Una donna, si presuppone giovane, ammantata da un scialle mosso dal leggero soffio del vento, con in mano una cetra a sette corde, scende una ripida scogliera, sospinta da un amorino, di cui si intravedono resti di gambe e parte delle ali. Sotto un mare agitato, un tritone spiega un drappo per accoglierla, mentre accanto un altro tritone, con un remo, soffia in una buccina, sorta di conchiglia tortile, utilizzata come uno strumento affiato. Sul lato sinistro, un uomo in basso siede su uno scoglio, con il tronco piegato e una mano sulla guancia, mentre più in alto, una figura sta eretta su un altro scoglio, con un arco tenuto sulla mano sinistra. Uno studioso francese, filologo e storico dell'antichità, Geron Carcopinot, ha tradotto l'insieme, danni nome e personaggi, e un senso alla storia, o per meglio dire alla leggenda. Il personaggio principale è Saffo, la poetessa di Lesbo, che invaghitasi di Faone, l'uomo sull'altra sponda, complice, una pianta miracolosa che aveva il potere di far innamorare, una volta rifiutata, decide di suicidarsi, lanciandosi dalla rupe di Leucade. In alto, il personaggio che assiste alla scena è Apollo. La pianta famigerata dovrebbe essere l'eringio, ovvero cento capio calcatrippola, insomma una specie di cardo. Ce lo svela Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia, libro XXII, mentre discetta sulle piante medicinali, citando appunto Faone e Saffo, e scrivendo ovviamente che questa credenza era una grande bufala, a cui dà un'orretta non solo i maghi, ma anche i pitagorici. Comunque la pensiate, consiglio di non mangiare la gruta, o almeno di evitare le spine. E qui viene chiamato in causa Pitagora, il filosofo di Samu, vissuto nel VI secolo a.C., di cui poco si sa, se non quello che hanno scritto i suoi seguaci secoli dopo. Per Giamblico, ad esempio, filosofo vissuto a cavallo tra il III e il IV secolo, Pitagora è l'incarnazione di Apollo, una delle figure presenti nell'abside. E siccome la scena descrive indiscutibilmente il passaggio tra la vita e la morte, che è una prima tappa del processo di trasmigrazione dell'anima, ovvero della reincarnazione, oppure il definitivo liberarsi dalla catena della reincarnazione, uno degli aspetti della filosofia pitagorica, da qui discende la convinzione che l'ipogeo potesse essere un luogo di riunione per reti misterici, convinzione rafforzata dal fatto che il sito si trovava sui possedimenti della gens statilia, di cui alcuni elementi pare aderissero alle dottrine neopitagoriche. Se il filo che lega la basilica ai misteri dei neopitagorici sembra un po' esile, in considerazione del fatto che nei vari quadri le figurazioni rappresentano scene mitiche o di vita che almeno apparentemente non hanno nulla a che vedere con i misteri, è per adesso una delle ipotesi più accreditate. E chissà se un giorno se ne potrà sapere di più o se tutto scomparirà lentamente ingoiato dal tempo. Un saluto, David Lab. Un saluto, David Lab.